Ciao a tutti e benvenuti nel canale, in questo video vi spiegherò come completare la sfida di eliminare il Dr. Doom nel dominio Doom ex Parco Pacifico quindi dovete praticamente scendere qui e non potete farlo in rissa squadre ovviamente armatevi di tutto quello che riuscite a trovare, entrate nella dimora del dottore ed eliminatelo potete farlo da solo, soli o con gli amici, quindi l'importante è eliminarlo un certo numero di volte se non mi ricordo male 3-4, quindi potete farlo in qualsiasi modalità eccetto rissa squadre state molto attenti ovviamente agli altri giocatori perché sono pronti ad eliminarvi, non si fanno scrupoli quindi armatevi fino ai denti ed entrate nella dimora del Dr. Doom ci sono come potete vedere le telecamere, ci sono i suoi tirapiedi, quindi non è un'impresa molto semplice armatevi e aprite il fuoco appena lo vedete ecco infatti c'è l'intelligentone di turno, ah no è il Dr. Doom, pensavo che era l'intelligentone di turno a spararmi il fuoco invece è il Dr. Doom che mi vuole fare la festa quindi come vedete ragazzi è un'impresa perché spara come un pazzo e spara male però ecco se lo eliminate fate la sfida quindi attenzione ragazzi perché questo fa veramente male, ma davvero male, non sto scherzando ecco sono morto, comunque avete capito come completare la sfida grazie a tutti